Mancano tre giorni alla sfida contro il Giuliano, siamo in compagnia di Jacopo Petriccione prima dell'inizio dell'allenamento odierno. Jacopo, sono arrivati a un po' di domande da parte dei giornalisti, iniziamo dalla prima. Giuseppe Livadotti, la provincia KPR. Dopo gli ultimi campionati disputati tra Serie A e Serie B, quali difficoltà, se ne sono esistite, hai dovuto superare in Serie C? La difficoltà più grande è stata magari a livello mentale perché dopo tanti sacrifici essere arrivato in Serie A non è facile scendere, però mi sono detto che devo cercare tutti i modi di risalire, di farlo magari col cortone e quindi lavorare sempre al 100% per cercare di tornare là su. Attilio Malena, Il Quotidiano del Sud, chiede dove senti di rendere al meglio e da regista davanti alla difesa o da mezz'ala con compiti più offensivi? Ho avuto la fortuna in carriera di fare tutti e due i ruoli, quindi per un motivo o per un altro mi trovo bene in entrambi. Il regista magari tocco più palloni, posso far sfaggiare la squadra, da mezz'ala sono più offensivo, posso essere più decisivo con assist, gol, quindi per un motivo o per un altro mi piacciono entrambi. Sempre Attilio Malena, cosa rappresenta questa di stagione rispetto alle altre per Jacopo Petriccione con la maglia del Crotone? Sicuramente come ho detto prima, una stagione deve essere quella del riscatto, dopo due anni difficili voglio tornare a fare bene, voglio tornare a dare al 100%, la continuità che sta avendo quest'anno per me è importante e devo continuare così. Claudia Berlingeri, Gazzetta del Sud, per l'ultima trasferta dell'anno sarete di scena sul campo di Avelino contro il Giuliano, che genere di partita ti aspetti? Come tutti quest'anno, quando gli avversari incontrano il Crotone, danno sempre qualcosa in più, sono molto più aggressivi, danno qualcosa che magari con l'altro non danno, guardiamo i video e ogni volta quando ci affrontano è sempre difficile affrontare queste squadre, sono tutte squadre organizzate, onestamente non pensavo che ci fosse questo livello qua, comunque ogni partita che incontri è una battaglia e fa una fatica, quindi sappiamo che anche domenica sarà così. Come giudichi la prima parte del campionato disputato dal Crotone e chiuderete sicuramente il secondo posto, questo girono di andata, visto che Catenzara è più 6 e Pescara è meno 4? Nel girono di ritorno bisognerà migliorare quali aspetti per poter puntare al primo posto e cosa manca a questa squadra per fare il salto di qualità? Ma non manca, non manca molto, alla fine se vedo gli altri gironi, vedo i campionati passati che seguivo sempre, ad oggi il Crotone sarebbe prima in classifica ogni anno in tutti i gironi a più 5-6 da tutte le squadre, quindi in questo momento bisogna fare i complimenti al Catenzara perché sta facendo cose straordinarie, noi dobbiamo stare lì pronti sul pezzo sempre ogni domenica per cercare di approfittare il loro passo falso. Maria Rosaria De Pietro, RT, in che condizioni affronterete la prossima trasferta e dopo il pareggio in casa ci si aspetta una prestazione maiuscola anche se si giocherà alle 12.30 che è un orario insolito per voi? Sì, non deve essere un alibi, noi ci veniamo sempre le mattine quindi siamo abituati a questo tipo di orario e dal Crotone ci si aspetta sempre prestazione maiuscola e spesso anche quando vinciamo veniamo a volte criticati però accusati di dover fare qualcosa in più però non ci interessa, noi prepariamo tutte le partite come sempre al massimo e andiamo in campo per vincere. Grazie a tutti! Grazie a tutti!